Ben trovati a voi tutti. Ben trovati a voi. La vostra luce interiore vibra e si fa percepire al vostro sguardo molto spesso succube di un vostro pensiero non sempre calmo, non sempre sereno. Fate che quel vostro pensiero vada più piano. Fate che la vostra mente rallenti il modo di ragionare, di chiedere, di volere. La vostra capacità di percezione è estesa quanto lo siete voi a livello vibratorio e quindi siete tutti in grado di guardarvi allo specchio e vedervi. E così come siete in grado di vedervi di fronte ad uno specchio, siete anche in grado di percepire la vostra esistenza in maniera intensa e profonda. E non soltanto per quello che vedete davanti ai vostri occhi, ma anche per tutto ciò che vi raggiunge e vi comunica. Siete in continua comunicazione con il creato in cui siete immersi. I messaggi vi arrivano da tutte le parti. La vostra ricerca del perché vi porta fuori strada, perché molto spesso non c'è un perché volta a soddisfare le richieste della vostra mente, ma esistono tanti motivi piccoli agli occhi della vostra mente, ma importanti quanto voi nell'esistenza globale. Ci riferiamo a tutti quei movimenti interiori che scaturiscono dal vostro essere e di cui voi stessi ne avete piena coscienza. Quei fastidi che provate o quelle sensazioni di negatività nei confronti di qualcosa o qualcuno sono un modo per esprimere la vostra essenza in maniera superficiale. Quando andate oltre quei fastidi, quando andate oltre ciò che non vi piace, trovate voi in maniera più estesa, con quella vibrazione fatta della vostra stessa essenza che vi riporta chiaramente a percepire il senso di voi stessi, che non è un senso razionale, non è una motivazione logica, perché per voi non è importante comprendere chi siete a livello esteriore, ma esattamente dove vi trovate e cosa state facendo che vi suggerisce l'idea della persona che siete. Ma ricordate sempre che un'idea non è necessariamente una realtà, allora dall'idea voi potete percepire un qualcosa di più che va sempre oltre, perché così il genere umano è, volto verso la strada dell'oltre. Ampliandovi, ampliando la vostra percezione, troverete il vostro benessere, ma non vi invitiamo ad una corsa sfrenata, verso un qualcosa che dovete raggiungere, al contrario vi diciamo di fermarvi esattamente qui dove siete e trovarvi ora per quello che siete adesso. Apprezzando la vostra esistenza attuale, vi ritroverete sulla strada dell'infinita percezione del sé, un qualcosa che va ben oltre le vostre idee e i vostri pensieri. Allora non è necessario che vi soffermiate a fare delle meditazioni molto particolari, ma è importante che iniziate a guardare a voi stessi con gli occhi della semplicità, imparando ad apprezzare esattamente quello che siete ora, anche con i vostri limiti, con quelli che voi chiamate difetti. Provate a guardarli senza quell'orrore, senza quel rifiuto che spesso provate nei confronti di ciò che di voi non vi piace. Vi accorgerete che quello che non vi piace è in realtà un'idea di voi, è in realtà un qualcosa che vi fa pensare qualcos'altro, ma non è una verità profonda e voi siete fatti di tanto altro. Non c'è solo quel limite a segnare il vostro essere. Ci sono anche tante vostre qualità che possono aiutarvi e venirvi in soccorso ogni volta che vi sentite persi. Allora sappiate guardare il lato bello della vostra esistenza, della vostra vita. Sappiate apprezzare il vostro riflesso di fronte a quello specchio. E sappiate pure gioire per quello che già avete, per quello che avete raggiunto, a livello spirituale, come dite voi.